Ciao a tutti! Oggi vi parlerò di questi occhiali sportivi della Rock Bros che mi sono arrivati direttamente da Gearbest Arrivano in questa bella custodia rigida, piuttosto ingombrante perché deve contenere tutti i numerosi accessori Andiamo ad aprire la zip e vediamo subito il suo contenuto Come vedete è bella piena di accessori Adesso sposto un po' di roba così posso farvi vedere come la confezione si è fatta molto bene Con le lenti tutte separate e protette da queste spugne Ecco qui gli occhiali Come potete vedere sono un modello pensato e realizzato per chi pratica sport e attività outdoor Sono stati usati buoni materiali, molto leggeri ma comunque abbastanza robusti Sono rifiniti piuttosto bene devo dire Non hanno sicuramente delle finiture di altissimo livello Ma per la fascia di prezzo sono comunque ben curati anche nei particolari Intanto vediamo la lente che arriva già montata È una lente polarizzata, l'unica delle 5 ad avere questa caratteristica E dopo andrò anche a testarla e verificarla Tutte le lenti incluse hanno la protezione ai raggi UV400 Fondamentale per proteggere i nostri occhi Dopo andrò a verificare anche questo aspetto E vi farò vedere come è possibile testare la protezione agli UV Anche sui vostri occhiali Per quanto riguarda la montatura Come detto è molto leggera e comoda da indossare Mi piace la scelta dei colori e anche il design Devo dire che come linea non è tra le mie preferite In genere uso occhiali con una forma un po' più aderente al viso Mentre questa montatura tende ad allargarsi un po' troppo Per quanto mi riguarda sulla parte frontale Devo dire però che dopo un po' di utilizzi Sto un po' rivalutando questa forma Perché ho notato che essendo un po' più laghi Consentono una maggior ventilazione E quando li uso in bici tendono ad appannarsi meno Rispetto a quelli che uso più aderenti E' presente un gommino sulla parte a contatto della fronte E due gommini sulle stanghette Per avere una maggiore stabilità e presa Il movimento invece avviene tramite uno snodo in plastica Tenuto da una piccola vite Che può anche essere estratto Per utilizzare un altro accessorio Che vi mostrerò in seguito Sembra tutto ben fatto Anche se essendo in plastica Non mi dà l'idea di essere particolarmente robusto Direi che conviene maneggiarlo con cura Per farlo durare nel tempo La lente si può estrarre molto facilmente Andando a sganciarla prima da un lato E poi dall'altro In questo modo possiamo andarla a sostituire Con una delle altre Quattro lenti Incluse nella confezione Come detto abbiamo Questa lente scura Che è polarizzata Poi è presente Una seconda lente scura Con all'esterno Un effetto a specchio Abbiamo poi due lenti chiare Uno con effetto diciamo Più colorato all'esterno Sono lenti quasi trasparenti Ma sempre con protezione UV Che sono molto utili Nelle giornate con poca luce Infine abbiamo una lente gialla Adatta per le giornate molto nuvelose O di sera Quando la visibilità è ridotta In quanto il giallo Tende ad accentuare i contrasti E ad aumentare meglio I dettagli E' presente poi un frame Che può essere fissato All'interno degli occhiali E dove si possono montare Delle lenti da vista Potete quindi andare dal vostro ottico E farvi fare delle lenti su misura Da poter così usare Insieme alle lenti da sole Questo cordino invece Si può fissare sulle stanghette In modo poi da poter appendere Gli occhiali al collo Vediamo poi questa fascia elastica Che può essere montata Rimuovendo le stanghette Gli occhiali si trasformano In questa maniera Praticamente in una mascherina Molto comoda Ad esempio per sport Dove c'è tanto movimento Come sci e mountain bike Per finire è incluso Un sacchettino Per trasportare gli occhiali E un piccolo panno Per pulire le lenti Per ultimo Ho lasciato questo piccolo cartoncino Che serve per testare La polarizzazione In pratica Passando la lente sul disegno Se la lente è polarizzata Comparirà una figura In questo caso Come vedete Un pesce La polarizzazione La si può testare Anche in un altro modo Basta mettersi davanti Ad un monitor di un pc E come potete vedere La lente Se è polarizzata Andandola a ruotare Di 90 gradi Questa diventerà Completamente nera E non si vedrà più Attraverso Con lenti non polarizzate Invece ruotandole Non succederà Assolutamente nulla Quindi Come abbiamo visto Questa lente È effettivamente polarizzata Come dichiarato Dal produttore Ora vediamo Un semplice test Per gli UV Non sarà chiaramente Attendibile Come le apparecchiature Degli ottici Ma ci dà una buona idea Sulla reale protezione Di queste lenti Allora Per eseguire il test Ci serve Una banconota Oppure anche Una carta di credito Va bene E una torcia Che emetta Una luce UV Sulla confezione Di questa torcia Che ho acquistato Per pochi euro Viene indicato Che la luce emessa Ha una lunghezza Donda Di 395 nanometri Quindi Molto vicina Ai 400 Dichiarati Come protezione Sulla lente Se passiamo La luce Sulla banconota Come potete vedere Compariranno Diversi segni Luminescenti Tra i quali Anche questa banda Luminosa Ora Se poniamo la lente Tra la torcia E la banconota Se La lente Ha una protezione Totale Come effettivamente In questo caso Vedete che le immagini Luminose Spariranno E non saranno Più visibili Questi occhiali Quindi diciamo Che montano Delle buone lenti Con una protezione Agli UV Effettivamente reale Fondamentale Questa protezione Per riparare i nostri occhi Dai raggi ultravioletti Che possono portare Anche a malattie Molto gravi Con questo Mi sembra di aver detto Tutto In conclusione Li ritengo Dei buoni occhiali Adatti A tutte le attività Sportive Anche il prezzo È molto conveniente Se si considera La qualità Dei materiali E il numero Di accessori Comprese Le tante lenti Tra cui scegliere Spero che la recensione Vi sia stata utile Se avete qualche domanda Potete sempre scrivermi Nei commenti Se siete interessati A seguire I miei prossimi video Ricordatevi di iscrivervi Al canale Con il tasto Qui sotto Saluti a tutti E alla prossima recensione E alla prossima recensione